Beffati dagli annunci online sul sito di acquisti subito.it due gli episodi distinti nell'alta Padovana. Nel primo caso la vittima del raggiro, una donna di Santa Giustina in Colle che aveva depositato 800 euro in una poste pay per ricevere un robot da cucina mai recapitato. I carabinieri sono risaliti alle intestatari della carta, due donne pugliesi che sono state denunciate. Denunciato anche un casertano di 45 anni che aveva truffato invece un 61 anni di Borgorico facendosi pagare una stufa pellet inesistente. Grazie a tutti.